Il nostro appello sarebbe quello di migliorare la sicurezza dei viaggi in Pullman, perché sono come dei piccoli aerei che portano 50-60 persone e non c'è nessuna attenzione, ad esempio, che tutti abbiano la cintura di sicurezza lacciata. Invece è importantissimo avere la cintura di sicurezza lacciata. Non c'era sicuramente sul Pullman, dove era Francesca e le altre 13 ragazze che sono morte, non c'era un sistema che adesso hanno, tante automobili, che rilevano nel caso in cui l'autista perda il controllo. Un colpo di sonno. Un colpo di sonno, c'è un suono, quindi sono tutti dispositivi che secondo noi andrebbero messi sui Pullman, anche perché ci sono stati poi altri casi di incidenti gravi. Questo incidente è stato causato da un colpo di sonno dell'autista, che è seguito a tanti piccoli colpi di sonno precedenti. Questo autista doveva fermarsi e non si è fermato. E secondo me ci sarebbe anche da parlare delle condizioni in cui lavorano gli autisti del Pullman. Cioè è una questione anche di sicurezza sul lavoro, perché noi sappiamo che quest'autista era stato sottoposto comunque ad uno stress lavorativo veramente pesante. A lei piaceva molto fare da mangiare bene e io adesso cerco di impegnarmi molto di più a fare le cose proprio per bene. E poi mi ha insegnato ad aprire casa, quindi ad accogliere persone, a non farmi tanti problemi, che lei diceva sempre, invitava magari 20-30 amici, e diceva Francesca ma poi ce l'hai da mangiare. All'ultimo minuto, tra l'altro. Ma poi devi dargli da mangiare, insomma non è facile organizzare una cena. Non ti preoccupare, è meglio essere tante e mangiare poco che essere poca e mangiare tanto. Quindi diciamo che in questo l'apertura verso gli altri, ecco il fatto di non chiudersi, non chiudersi agli altri.